Siamo con Pierangelo Spina ed Emanuela Cavazzini di Filmgood. Oggi sono qui nei nostri uffici per annunciare un'importante novità. Stiamo parlando di brand entertainment che verrà annunciato con un importante evento tra poco. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta. Sì, sostanzialmente è una forma di produzione di comunicazione quindi di branded content che vede il prodotto, il brand come protagonista o comunque come investitore di progetti differenti da quelli che sono i normali spot pubblicitari o la pubblicità ATL per così dire e lo coinvolge invece in contenuti, storie o intrattenimento diverso per una fruizione su piattaforme più complete quindi non solo la televisione ma anche il web piuttosto che l'evento, piuttosto che il reality o il talent show, il game show e via discorrendo. È una tendenza sempre più in atto quella del branded content. Ecco, voi come pensate di realizzare prodotti di questo tipo e come lancerete questo nuovo servizio? Allora sì, questo è vero. I dati di investimento, gli ultimi dati sugli investimenti di comunicazione danno la tendenza in fortissimo aumento anche perché comunque c'è un ritorno in termini di cattura del pubblico molto alto e molto più diretto. Abbiamo deciso e insieme a una importantissima società italiana nell'ambito proprio dello spettacolo e dell'intrattenimento che è Bananas, conosciuta sicuramente a tutto il grande pubblico per Zelig e la produzione di Zelig, da dieci anni successo incontrastato naturalmente, di unire le forze e quindi le diverse competenze all'interno della comunicazione più in generale, quindi noi produttori di comunicazione, loro produttori di artisti, di contenuti e di quant'altro, di metterci insieme, di far nascere a questa etichetta Brain Cross che permetterà, darà il via a tutta un'operazione di contenuti diversi. Il, come dicevi giustamente, il giorno 17 di dicembre faremo questo lancio su scala nazionale con un grosso evento a Palazzo Cusani in via Brera Milano. Ecco, parlavi di scala nazionale, in realtà ricordiamo che Film Good è presente anche a San Marino con un centro di produzione ad hoc ed è all'interno di questo centro che c'è la unit Food by Frame. Proprio recentemente è stato realizzato un filmato molto bello di 90 secondi che mostra la vostra expertise in campo produttivo. Ci può raccontare qualcosa a riguardo? Abbiamo fatto questo reparto, diciamo così, all'interno appunto dei nostri teatri di San Marino dedicato al tabletop con la consulenza di Franco Villanelli, famoso special effect, diciamo così, di Food e devo dire che l'esperienza che abbiamo fatto appunto producendo questi 90 secondi è stata molto interessante e già cominciamo comunque a fare i primi lavori per società estere per cui siamo molto contenti insomma. Food by Frame punta su una qualità creativa ed esecutiva molto elevata. Lavorate con alcuni registi anche in esclusiva, giusto? Sì, abbiamo diversi registi in esclusiva che potete tranquillamente vedere sul nostro sito nella sezione dedicata al tabletop. La nostra peculiarità massima è sicuramente la qualità del prodotto che andiamo a realizzare tant'è che abbiamo avuto una richiesta da una grossa casa di produzione straniera e abbiamo ricevuto appunto un'esclusiva per girare i loro progetti di tabletop per loro, insomma direttamente per il loro paese. E poi ricordiamo che Film Good, proprio per ADV Express, ogni giorno si occupa di fornire un servizio denominato lo storytelling di Film Good, atto proprio a mostrare quali sono le forme più innovative di storytelling che anche questo è un argomento di cui si parla molto. Com'è nata questa idea di lanciare questo servizio su ADV Express e che cosa intendete comunicare? Allora sì, l'idea nasce non tanto da un'idea mia quanto da un'idea di Richard Ronan e in un momento del mercato in cui la penetrazione del fortissimo brand Shots è incominciata a venire a meno. Quindi negli anni 90 era famosissimo, era una rivista che veniva distribuita da una casa di produzione a tutte le agenzie e informava su quello che erano i contenuti internazionali relativi in più in generale alla comunicazione e alla pubblicità classica. È venuto a mancare questo tipo di strumento, poi è anche vero che comunque in internet o mai si trova di tutto però per noi è stato molto interessante valutare quello che Richard aveva da offrire vale a dire il racconto quotidiano di tutto ciò che nel mondo viene pubblicato, non necessariamente delle idee creative superlative ma che viene raccontato in una maniera nuova, diversa, moderna, innovativa o che usa tecnologie completamente diverse cioè dare ogni giorno uno spunto e un'informazione in più in merito a un mercato che sta diventando sempre più vasto e molto più complesso. Il mondo della comunicazione negli ultimi anni ha subito un importante cambiamento. In questo contesto come sta cambiando anche il ruolo delle case di produzione? Il ruolo delle case di produzione sta cambiando in peggio naturalmente come per tutti no diciamo che stiamo diventando sempre di più al di là di esecutori e bravi esecutori per forza di cose anche molto spesso consulenti perché i soldi sono sempre meno le difficoltà per i clienti di comprendere determinati costi di produzione sono ormai quasi diventate impossibili e non si capisce più com'è quindi bisogna sempre cercare di essere attenti a trovare soluzioni veloci, convenienti e intelligenti quindi già era un lavoro complesso, secondo me adesso si è ancora più complicato. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, quindi inevitabile una domanda su come è andata quest'anno per Film Good e quali sono le prospettive per il 2015? Allora direi che l'anno nonostante il periodo che stiamo vivendo ci reputiamo contenti pensiamo di chiudere l'anno con un incremento di circa il 15% rispetto all'anno precedente. Qualche anticipazione su progetti a cui state lavorando particolarmente interessanti? Sì, stiamo lavorando in questi giorni a una web series per Unipol che dovremmo girare entro la fine del mese di dicembre Stiamo lavorando anche, come diceva prima Pierre, a due produzioni internazionali di tabletop e a due piccole produzioni pubblicitarie. Ci sono in cantiere invece per l'anno prossimo, ma per scaramanzia preferisco non fare nomi un grandissimo progetto pubblicitario e tre o quattro progetti di branded content.